La maggioranza delle persone che pubblicano contenuti sui social lo fa a casaccio, senza una vera e propria pianificazione strategica, ma non ti preoccupare perché oggi ti darò tre consigli fondamentali su come dare una direzione e organizzare i tuoi contenuti, proprio per aumentare l'efficacia nel tuo messaggio e non complicarti la vita tutti i giorni. Ciao, sono Chiara Micheli e sono una social media manager. In questo video ti darò tre consigli utili per pianificare i tuoi contenuti da professionista. Ti è mai capitato di non avere idee sugli argomenti da pubblicare? Oppure ancora averne tante, però non sapere esattamente bene come organizzarle in modo proprio funzionale? Oppure ancora perdere tantissimo tempo a cercare degli argomenti senza poi venirne a capo? Ecco sì, può succedere e succede quando non sai come fare. Ecco quindi le tre cose che devi fare per iniziare a creare i tuoi contenuti. Numero uno, devi pensare al beneficio che vuoi comunicare. Chiediti quindi qual è il beneficio per il mio pubblico? Per esempio, se tu fossi uno psicologo potresti parlare dei benefici della meditazione perché magari tu utilizzi questa pratica e hai raggiunto i risultati attesi e lo potresti fare così. Medita almeno 5 minuti al giorno per avere una maggiore lucidità mentale. Punto numero due, usa la strategia delle pietre miliari. Su un percorso che va da A a B dove il B è l'obiettivo del tuo pubblico, suddividi il tragitto in sotto argomenti che lo accompagnino poi all'obiettivo. In pratica, traccia proprio una linea alla fine della quale scriverai il tuo obiettivo e suddividerai la linea poi in tanti pezzi che quindi corrispondono a dei sotto argomenti. Per esempio, comincerai a parlare delle origini della meditazione, dove si pratica, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai propri benefici. Punto numero tre, fai una pianificazione scritta utilizzando dei tools online come per esempio Trello oppure semplicemente in Excel. In questo modo avrai una progressione dei contenuti e sarà sempre chiaro quali contenuti dovrai pubblicare e quale invece dovrai realizzare. Questo è il primo step per creare una comunicazione efficace sui social. Nei prossimi video ti spiegherò come creare il testo dei tuoi post, come una ricerca giusta di parole e come renderli praticamente accattivanti. Metti quindi un like e seguimi su questa pagina e confessa, l'hai mai fatta una pianificazione di contenuti? Perché allora non farla insieme? www.chiaramicheli.net Ti aspetto!